Al Funding and Capital Markets Forum 2017 si è appena conclusa la sessione che si è occupata del capitale delle banche e degli strumenti di TR3. Qual è la situazione attuale? Continua ad esserci una convergenza molto forte delle varie regolamentazioni internazionali e siamo in una fase in cui aspettiamo la finalizzazione della legge che introdurrà una nuova fascia di capitale nella stratificazione del capitale delle banche che è chiamata il Senior Non Preferred che è un'altra fascia a protezione dei creditori e degli investitori in caso di risoluzione di una banca in caso di difficoltà. Quindi l'obiettivo è sempre di più creare una cintura di sicurezza attorno al capitale delle banche tale che gli investitori che sono più senior e quelli meno sofisticati vengano protetti in questo caso. Quindi adesso si crea un punto di come prezzare il capitale delle banche perché ci sono tanti layer, tante stratificazioni che si intrecciano e gli emittenti possono anche essere delle banche operating company oppure delle holding company, quindi si aggiungono delle ulteriori complessità. Ed è molto chiaro che gli investitori sono ben pronti a accettare questa diversificazione e ci sono già degli esempi che hanno fatto vedere come c'è un pricing estremamente corretto e fair nel classificare i vari rischi. Per cui a questo punto aspettiamo una finalizzazione di questa regolamentazione perché molti emittenti stanno aspettando il testo finale prima di poi andare sul mercato. Ci sono anche delle soluzioni un pochino più strutturate che hanno permesso alcune banche di anticipare i tempi e con delle soluzioni che sono più tecniche piuttosto che legislative ottenere lo stesso risultato di cintura di sicurezza per gli investitori. Quindi è un mercato estremamente attivo e sta andando nella giusta direzione. Come si stanno muovendo i vari attori di questo mercato? C'è sinergia o ci sono delle divergenze? Il panel è stato molto interattivo perché avevamo tre investitori istituzionali estremamente sofisticati un emittente bancario italiano, un'agenzia di rating e uno studio legale. Ed è molto chiaro che tutti gli attori attorno a questo mercato stanno lavorando molto bene insieme per trovare la soluzione e permettere sia agli investitori che agli emittenti di raggiungere un fair deal quando vengono fatte le emissioni. Ovviamente anche questo è un mercato che sulla base dei tassi di interesse molto bassi dettati dal quantitative easing di Draghi ha visto anche le forme di debito subordinato o più subordinato raggiungere dei tassi di interesse molto molto bassi. Per cui a un certo punto si crea la domanda per gli investitori quant'è il valore aggiunto nell'investire in questi titoli piuttosto che investire in titoli azionari. Quindi c'è sempre il classico trade off in tutti i cicli di mercato tra debito ed equiti. È una dinamica molto positiva che ovviamente ogni tanto si muove da una fascia all'altra. Grazie.